Mi viene in mente di sorpresa che in gennaio scorso c'era un nostro carissimo amico che mi promise che sarebbe stato presente avendo salutato la nostra precedente performance del 19 gennaio. Sarebbe stato presente purtroppo in realtà in febbraio se n'è andato e quindi perlomeno per quanto mi riguarda faccio un saluto a Maurizio Cavalli che ha animato lungamente anche molti spazi in questo posto. Questo strumento qua si chiama ukulele, arriva dalle Hawaii. Piano piano si andava verso la seconda metà degli anni 30, quindi in direzioni piuttosto oscure. Piano piano si andava verso la seconda metà degli anni 30, quindi in direzioni piuttosto che non si andava verso la seconda metà degli anni 30, quindi in direzioni piuttosto che non si andava verso la seconda metà degli anni 30. morivano come mosche. Durata molti anni la guerra di secessione americana, la verità non è mai solo una parte. E questa è una canzone che parla dal punto di vista dell'altra parte, di quelli che abitavano dal sud. Woody Guthrie assieme al cugino Jack scrisse sulla sua terra che era l'Oklahoma. e lo stato dell'Oklahoma nel 2001 ha poi selezionato questa canzone come canzone folk dello stato con dato di delibera della corte. ma ancora prima c'è un famoso discorso che ha fatto Robert Kennedy, è stata la causa della sua morte, in cui diceva che la ricchezza della giustizia dell'anzione non di pesca, era il 1968. musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.